Buonasera cari telespettatori, benvenuti a questo spazio di approfondimento. Questa sera tratteremo di un argomento di grande attualità che è entrato da diverso tempo nella discussione comune, politica e anche sociale della città. Però presento subito gli ospiti così capiamo bene di che cosa parliamo, presento i graditi ospiti, i vertici di Aset, il presidente Paolo Reginelli, buonasera. Buonasera. E il direttore Marco Romei. Buonasera. Buonasera e benvenuti. Allora, il digestore anaerobico, l'argomento è questo, è entrato come dicevo abbastanza come tema caldo ultimamente, è affrontato da diverse angolazioni e da diverse prospettive. sia politiche che sociali, insomma, si è smosso un po' la pancia, non soltanto della politica ma anche dei cittadini. Allora, però, forse in tutto questo bailame c'è tanta confusione, lo scopo di questo approfondimento è proprio quello di chiarire alcuni punti salienti e importanti della vicenda. Quindi, partiamo dall'inizio, no presidente? Che cosa utilizza e che cosa produce un digestore? Partiamo dall'inizio. Bene, partiamo proprio dalla base. Per quanto riguarda un biodigestore, quello che utilizza sono due elementi fondamentali. La forso, che sarebbe la frazione organica del rifiuto solido urbano, il cosiddetto umido, e gli sfalci. E questi sono gli unici elementi che possono essere conferiti nel tipologia di biodigestore che noi abbiamo preso in esame. Perché qui, quando si parla di biodigestori, probabilmente si parla di molte tecniche e molte caratteristiche. Qui noi abbiamo, da un po' di tempo, esaminato invece un brevetto particolare che è stato effettuato in molti casi in Italia, in special modo in un impianto di San Michele Allà, di Gefaedo, praticamente a Trento, e seguiamo quell'impostazione lì. Quindi, per quanto riguarda gli effetti, le modalità, quello che produce e quello che non produce, ci facciamo riferimento a quel genere di esperienze ed è una delle esperienze più sicure che ci possono essere in questo momento in Italia. Ecco, dopo insieme al direttore Romei capiremo anche dal punto di vista tecnico alcuni aspetti che sono un po' cari a tutti, ma giusto per chiarire bene di che cosa stiamo parlando. Però io con lei, Presidente, vorrei ancora sottolineare il prodotto, quindi un compost di qualità, utile all'agricoltura, all'agricoltura biologica, ma si parla anche di biometano. Quindi quali possono essere gli utilizzi anche del biometano, visto che se ne è parlato è entrato anche questo come argomentazione importante. Sì, intanto bisogna fare un riferimento, diciamo così, europeo, perché qui parliamo di economia circolare, parliamo della necessità da parte dell'Europa di ridurre la dipendenza dagli idrocarburi di origine fossile. Quindi con cosa? Cercando di promuovere in tutti i modi la produzione di biometano, che è il metano che viene creato dalla digestione di queste due determinate materie. In questo caso, dopo questo procedimento, noi abbiamo due prodotti. Il primo prodotto è il biometano, che può essere inserito, che deve essere inserito in rete, quindi nella rete SNAM del gas metano, e in più può essere utilizzato anche sia per l'autoconsumo, e questa è una cosa estremamente interessante per quanto riguarda, ad esempio, delle realtà come le nostre, che hanno una flotta di mezzi sui 200 mezzi e oltre, e in più anche come vendita terzi, cioè il classico distributore dal quale si possono servire coloro che hanno degli apparecchi a metano, dell'apparecchiatura a metano, quindi macchine e quant'altro. Per quanto riguarda invece il digestato, il prodotto che poi può essere sparso nelle coltivazioni, può avere molti aspetti estremamente positivi. In primo luogo perché parliamo, nella tecnologia che noi vorremmo utilizzare, di un prodotto che è adatto anche alle coltivazioni biologiche, quindi da lì si capisce anche la qualità del prodotto. In secondo luogo perché riteniamo anche che è un materiale che fa risparmiare molto, molto concime con basi chimiche, quindi arricchisce il terreno e potrebbe anche far venire meno un impiego massiccio di concime a basi chimici che specialmente nelle altre zone hanno provocato e continuano a provocare una serie di problemi come i nitrati nelle falde e oltre. Quindi soprattutto poi per il settore biologico, dell'agricoltura green nei nostri territori è molto presente e quindi un po' anche tutta la regione Marche, moltissimo, quindi l'economia anche territoriale ne gioverebbe. Però invece per Aset, in termini di costi-benefici, quali sono i risparmi sugli attuali costi poi che sostenete? Quando si parla di risparmi per Aset, intanto dobbiamo dire che Aset è pubblica, è dei cittadini, quindi se risparmia Aset risparmiano anche i cittadini. E noi siamo obbligati a conferire queste due tipologie di prodotti, sia l'umido che gli sfalci. C'è un problema cronico a livello, specialmente nel centro Italia, dove mancano questi stabilimenti dove conferire. E noi abbiamo avuto degli aumenti del 30%, quindi siamo passati da praticamente 89 euro a tonnellata, qui parliamo dal 2018 in avanti, da 89 euro a tonnellata a 112 mila euro a tonnellata per quanto riguarda l'organico. E praticamente dai 18 euro a tonnellata per il verde siamo passati a 58 euro a tonnellata. E il trend è un trend in crescita, perché se facciamo riferimento dei comuni come Roma, stanno conferendo l'umido a 180 euro alla tonnellata. Quindi solo questo, solo facendo riferimento a questo genere di aumento che è avvenuto da un anno all'altro, alla fine dell'anno noi abbiamo una spesa ulteriore, siamo passati da 1 milione a 88 mila euro a 1 milione e 890 mila euro. Quindi 800 mila euro solo di spese ulteriori. Quindi questo è un beneficio che noi potremmo tranquillamente ricevere portando avanti una struttura che gestiremo in pratica con, da gestire in modo che avremo degli ulteriori diminuzioni e questo potrà avere degli effetti benefici intanto anche sulle bollette, perché meno spendiamo e meno chiediamo ai cittadini. Poi ci sono tutta una serie di situazioni ancora più allettanti, perché si parla comunque di la proposta da parte dell'autorità competente di un benefit riconosciuto al comune dove sorge l'impianto. Quindi ci sono tutte queste genere di situazioni. Se poi parliamo anche di risparmi dal punto di vista economico per quanto riguarda un certo tipo di carburanti che possiamo sostituire, quindi carburanti come gasolio e benzina che possiamo sostituire con il metano, iniziamo ad avere delle importanti risorse che potremmo tranquillamente riversare sul territorio e sui cittadini e quindi sugli utenti. Ecco, quindi insomma l'umido ha dei costi, lo sfancio ha dei costi, dei costi che sono in crescita e comunque va da sé che l'immondizia, come la chiamiamo comunemente, da una parte la dobbiamo mettere, da una parte la dobbiamo portare, quindi se abbiamo un qualche cosa che risolve comunque un problema di costi, l'azienda, insomma, ne giova sicuramente. Però venendo un po' dall'altra parte, cioè il cittadino si domanda, ok, voi risparmiate i costi, fate le cose per bene, fate bene all'ambiente, ma io da comune cittadino che si recca tutti, insomma, un mese sì, un mese no, a pagare una bolletta alla posta, qual è il mio vantaggio, il mio ritorno immediato facendo sì che questo impianto venga nel mio, a casa mia, insomma. Ma il vantaggio, intanto l'umido è una componente della tariffa, quindi che ogni cittadino paga per i servizi che riceve. Sicuramente ci sarà una diminuzione importante delle tariffe che riguardano l'igiene urbana, perché avendo un risparmio ulteriore, poi questo risparmio è un risparmio che lo possiamo notare in bari termini, ad esempio solo il fatto che abbiamo dei dipendenti che partono al mattino e conferiscono questo materiale a 200 km, quindi fanno 400 km in un giorno, avanti e dietro, capite bene che anche a livello di personale c'è un esborso che potremmo tranquillamente risparmiarci, quindi ci sono tutta una serie di risorse che si possono in qualche modo originare e che possono avere un effetto sicuramente benefico nella bolletta, che poi è il fine ultimo al quale in pratica ci poniamo. Sì, perché sul discorso costi molti aspetti sono misconosciuti all'utenza, comunque al comune cittadino, ecco questi aspetti anche logistici sono poco conosciuti, forse immaginabili ma non conosciuti, quindi vantaggi diretti per ASET, vantaggi per il cittadino, ma ci sono vantaggi indiretti, secondari, chiamiamoli così, ci sono altre tipologie di cose virtuose che si innescano in questo meccanismo. Intanto parliamo di economia circolare, quindi già il fatto che da un prodotto di scarto, da un rifiuto per il quale dobbiamo pagare, abbiamo una risorsa per il quale gli altri ci pagano, già solo quello varrebbe la pena di portare avanti il progetto. Poi abbiamo anche il discorso dell'ACO2 che viene diminuita, perché un conto è conferire a 300 chilometri da dove siamo adesso, 200 chilometri, un conto è conferire nell'area di uno dei comuni interessati da ASET e quant'altro, insomma, quindi ci sono degli effetti che sono estremamente interessanti da questo punto di vista. Ci possono essere effetti anche occupazionali eventualmente? Ma l'impianto che noi abbiamo visionato prevede un impiego di 9 persone, quindi un impianto che continuativamente lavora per 7 giorni alla settimana, è aperto anche se si conferisce solo per 5 giorni, ci sono 7 persone perché è estremamente automatizzato e quindi da un punto di vista tecnologico è estremamente interessante, quindi penso che ci potrà essere una crescita anche dal punto di vista, diciamo così, tecnico, sia dell'azienda che gestirà questo impianto che dei tecnici a cui faremo riferimento. Quindi questo secondo me è un apporto ulteriore, è un beneficio ulteriore che noi portiamo in questo momento al territorio. Ecco, adesso le chiedo una delle argomentazioni principe delle discussioni che ci sono avute fino ad oggi su questo argomento, soprattutto da parte dell'opposizione o da chi dalla parte politica opposta vede questa operazione come un'operazione dannosa per i bilanci, per le tasche di Aset e aprirebbe un po', a mo' di cavallo di troia, la strada a marche multiservizi che vorrebbe mettere le mani sull'azienda in house. Quindi vogliamo spiegare un po' anche questo aspetto, fare un po' chiarezza su questo aspetto. Ma io intanto penso che, indipendentemente da marche multiservizi o non marche multiservizi, noi adesso, come si dice, stiamo benissimo da questo punto di vista. Le prospettive che riguardano questo genere di entità, le nostre società, come quelle di tante altre società, che hanno una dimensione non grandissima, sono delle prospettive che in qualche modo meritano un periodo di ragionamento, un periodo di riflessione. Riteniamo che la cosa migliore che ci possa dare più tempo per ragionare e ci possa dare più garanzie è la gestione degli impianti. Perché il mercato, un mercato che purtroppo, quello dei servizi, si sta sempre più assottigliando perché non siamo in grado molte volte di competere con le nostre tariffe, con le tariffe di operatori privati per tutta una serie di motivi sui quali sarebbe lungo soffermarsi, ma di cui secondo me varrebbe anche la pena. E quindi, visto la cronica mancanza di impianti, specialmente in determinate aree, riteniamo che invece l'investire in un impianto sia il modo migliore per garantire una vita più, diciamo così, sicura ad Aset. Quindi nessuna macchinazione macchiavellica, faccio il passo più lungo della gamba, vado in default, divento appetibile, mi magnano. Per quanto riguarda questo impianto gemello che abbiamo valutato ormai da parecchi anni, perché questa storia è una storia di osservazioni portate avanti, di visite, di confronti, dal punto di vista economico questi signori hanno investito cinque anni fa e nel giro di sei anni e mezzo rientrano dell'investimento. Se ci riescono loro, le caratteristiche sono supergiù le stesse perché parliamo di conferimento della provincia di Trento e di parte di quella di Bolzano. La qualità del materiale è una qualità come la nostra, perché la nostra è una grandissima qualità nel senso che sia con la modalità della raccolta porta a porta che con una grande educazione e preparazione dei cittadini fanesi e anche dei comuni soci, abbiamo una qualità e una resa estremamente interessante. Seguendo queste linee qui, loro sono rientrati di questo investimento in sei anni e mezzo. Quindi non vedo perché noi saranno sette, siamo meno bravi sette anni e mezzo, però nulla che possa in qualche modo mettere in discussione il... Poi noi quello che chiediamo in questo momento è una fattibilità, poi tutto il resto avverrà a mano a mano, sarà un processo partecipato dove ognuno potrà dire la sua, però poi alla fine si dovranno prendere delle decisioni. L'idea è che ce l'hanno fatta loro perché non ce la possiamo fare noi, non è che abbiamo qualcosa di meno. Quindi l'ecosostenibilità è un valore aggiunto, un valore importante come investimento. E sarebbe il punto di partenza perché partiamo da lì, partiamo praticamente da un'attenzione che c'è nei confronti dell'ambiente, io ho sentito parlare molte volte di acque, falde e quant'altro, questi sono dei procedimenti che con le falde non ha nulla a che fare perché non prevedono l'utilizzo di acqua e quindi neanche di acqua reflu e quant'altro, quindi è una produzione che si accoda, tra l'altro questo impianto è un impianto che viene certificato da l'Egambiente, quindi qualche motivo ci sarà da questo punto di vista. C'è il bollino verde insomma. C'è il bollino verde, c'è anche uno dei cento casi virtuosi dell'Italia per quanto riguarda le innovazioni e l'economia e il rispetto per l'ambiente quindi parliamo insomma di una situazione estremamente monitorata, tutelata. L'altra argomentazione oltre alle macchinazioni di bilancio è quella un po' più pratica, un po' più terra terra dell'elevato traffico che si creerebbe sulla zona, camion che vanno avanti e indietro, polveroni, cattividori, apri la saracenina e scresce la puzza, insomma facciamo un po' di chiarezza anche su questo aspetto, qui entriamo un po' più nel tecnico, però insomma questo è un rischio che la gente forse si sente un po' sulla pelle. Allora, poi l'ingegnere Romè spiegherà meglio da un punto di vista tecnico come avviene il tutto, però questo è un impianto industriale, ok? Completamente al chiuso, quindi con tutto un circolo di lavorazione al chiuso. Per quanto riguarda il discorso del traffico, io, se la matematica è sempre quella, parliamo di conferimento di un'ipotesi di 60.000 tonnellate, vuol dire che si portano in un anno 60.000 tonnellate di materiale. Ora, se divido per 300 giorni lavorativi il risultato giornaliero è di 200 tonnellate, ok? Un tir ha una portata che va dai 40 alle 45 tonnellate, quindi se io faccio 200 diviso 40 mi viene fuori 5, poi se quelli 5, se uno di quei 5 lo dobbiamo dividere in 7 e 8 perché sono coloro che raccolgono l'umido nella città di Fano e lo conferiscono lì, va bene, però in uno stabilimento che apre la mattina alle 7 e chiude alla sera alle 6 vuol dire che se ne vede una l'ora se va bene, ok? Quindi tutto il traffico che si smuove. Poi c'è un traffico che riguarda gli operatori agricoli che vanno a ritirare questo digestato, ma anche lì parliamo di cose minimi perché poi il prodotto si riduce e quindi parliamo di molto di meno di quello che è. Poi insomma in un ambito di un qualsiasi tipo di impianto industriale è un trasporto che lascia il tempo che trovi, è più una paura che viene trasmessa senza degli elementi oggettivi e reali da questo punto di vista che è reale. Ma poi basta andare proprio qui davanti a 200 metri o anche davanti alla vostra sede ci si ferma un'oretta si contano i tir che passano 7-8 camioni in più non è che stravolgono la vita di quell'aria insomma passano 200 camioni al giorno insomma quindi se questo poteva essere un aspetto preoccupante. Però siamo entrati un po' direttore Romei nel vivo nella pancia del discorso come è fatto questo impianto come funziona ecco se è possibile renderlo fruibile anche al comune cittadino alla massaia di Voghera comprendere questo ci proviamo ci proviamo ci proviamo in maniera chiara spero e abbastanza semplice ma io direi di partire subito dall'immagine dell'impianto che in qualche maniera in questi anni di analisi di studio mio e dei miei colleghi che anche più in dettaglio di me hanno studiato gli aspetti tecnici e applicativi di soluzioni tecnologiche per risolvere e gestire il problema dell'umido del verde questa immagine ci rappresenta un impianto industriale una serie di capannoni l'area complessivamente occupa circa due attori e mezzo abbiamo 10-15 mila metri di capannoni al coperto le lavorazioni avvengono tutto al chiuso e questo è l'impianto che secondo noi è il modello di eccellenza dell'ottimo diciamo che abbiamo verificato in giro tra l'altro abbiamo scelto questo impianto anche perché il bacino di utenza che serve la tipologia di utenza è molto simile a quella del nostro territorio questo è un impianto che serve la provincia di Trento e come numero di abitanti tipologia di raccolta insomma assomiglia abbastanza al nostro territorio non mi sembra che sia su un cucuzzolo isolato esatto è interessante vedere dove è collocato insomma intorno abbiamo una serie di vigneti l'impianto è monitorato quindi in 6-7 anni questo sistema di monitoraggio non ha non è emerso alcuna problematica di sorta si fanno campionamenti spot per verificare anche l'effetto d'origine o le eventuali puzze che potessero emergere anche in questo caso non ci sono stati riscontri e sottolineo un'altra cosa è una notizia di questa mattina la provincia di Trento anzi la città di Trento per la verifica della qualità della vita è risultata la prima città d'Italia questo è un dato di Italia oggi quindi parliamo di un territorio dove la qualità della vita che è associata in maniera rilevante alla qualità ambientale è sicuramente l'eccellenza in Italia quindi ecco l'esempio è il modello che stiamo prendendo probabilmente ha un valore a prescindere da ulteriori valutazioni perché servono questi impianti come ha accennato prima il presidente si tratta di impianti a cui destinare gli scarti di cucina a cui destinare verdi e sfalci questi rifiuti prima venivano conferiti talquali in discarica e determinavano i problemi ambientali perché sono elementi materiali che in determinati condizioni anaerobiche determinano biogas percolato quindi con effetti ambientali negativi pertanto ormai da anni il legislatore ci ha indicato una strada che va verso la raccolta differenziata e la gestione attraverso impianti dedicati abbiamo parlato prima di cifre oggi noi siamo già arrivati ad un ottimo livello di raccolta differenziata Fano ha raggiunto 75 comunque stabilmente sopra il 70% anche gli altri comuni soci hanno raggiunto questi livelli di risultati chiaramente questo determina l'esigenza di dover gestire solo per Aset quantitativi importanti circa 10.000 tonnellate di umido e 10.000 tonnellate di verde con dei costi che vediamo rappresentati di circa nel bilancio 2018 parliamo di 1.800.000 euro di costi chiaramente registriamo anche un trend importante d'aumento perché la raccolta differenziata sta aumentando in tutta Italia c'è un'attenzione particolare e pertanto gli impianti non sono sufficienti la domanda sta aumentando e ci attendiamo non solo Aset questo è un problema che riguarda tutte le aziende di rifiuto ci attendiamo importanti aumenti quindi vorremmo gestire questa dinamica questa legge economica della domanda dell'offerta esatto che prescinde da noi le tecnologie che abbiamo valutato qui c'è un'immagine abbastanza interessante ci siamo ispirati cioè la tecnologia in questi anni ha sfruttato e partita da fenomeni naturali che sono quelli che avvengono nel sottobosco nei sistemi di digestione di ruminanti quindi sono processi naturali biologici che chiaramente vengono sfruttati in maniera industriale quindi le due tecnologie che sono diffuse oggi nel territorio sono compostaggio che è una digestione aerobica quindi con presenza di aria e la digestione anaerobica ovvero un fenomeno un processo che avviene in assenza di aria anche in questo diciamo che la legislazione europea è stata poi declinata dalla legislazione regionale e quella locale però la commissione europea ha individuato la necessità di valorizzare i rifiuti e in particolare in questa slide che ci dà un po' quella che è la gerarchia di valore nella gestione dei rifiuti essenzialmente dobbiamo prevenire la produzione però poi come ultima opzione abbiamo lo smaltimento presso discariche inceneritori se vedete lì con colore verde abbiamo il riciclo il recupero ebbene la tecnologia che stiamo proponendo è stata classificata come una tecnologia che equivale al riciclo e al recupero sia di materia che di energia dai rifiuti allora il compostaggio il compostaggio è diciamo una tecnologia anche abbastanza semplice che noi utilizziamo a casa ASET distribuisce in diversi comuni soci le compostiere queste consentono un fenomeno naturale di digestione aerobica che poi dà un prodotto un terriccio che può essere utilizzata nei giardini diciamo un processo abbastanza semplice tra l'altro a chi si prende l'impegno di utilizzare il compostiere viene riconosciuto con i regolamenti comunali anche a Fano una riduzione sulla Tari quindi una riduzione sulla parte variabile del 25% però si comprende abbastanza semplicemente qual è il processo che avviene di trasformazione dello scarto di cucina il compostaggio poi è stato declinato anche in maniera industriale in impianti che sì questi hanno determinato un po' di problemi perché sono impianti che se gestiti all'aperto determinano problemi di puzze noi abbiamo avuto un impianto qui nel nostro territorio che chiaramente ha determinato in un certo periodo problematiche di questo tipo però anche qua il compostaggio se è gestito in campanoni in ambienti chiusi non determina questi problemi ovviamente ecco il compostaggio chiaramente va il compost di qualità va a inserirsi in una dinamica ambientale importante cioè tutta l'areale dei paesi che stanno vicino al Mediterraneo sta riscontrando un continuo declino della componente organica sui terreni quindi ci stiamo tra virgolette desertificando e il compost rappresenterebbe una soluzione anche biologica e rinnovabile a questa problematica per rigenerare il terreno per rigenerare il terreno in Italia da questo punto di vista si è mosso insomma è un settore che da qualche anno sta lavorando con attenzione abbiamo un consorzio un consorzio italiano compostatori che dal 2003 certifica la qualità del compost cosa significa c'è un sistema di verifica di audit che garantisce attraverso analisi chimiche attraverso la verifica della provenienza dei rifiuti che determinano il compost perché chiaramente ci sono differenze significative le vedremo poi e che consentono nel caso specifico dell'impianto che abbiamo preso a modello di ottenere un compost certificato allora il capannone finale dell'impianto che abbiamo visto prima ha delle dimensioni importanti però le tre volte che sono andato personalmente a visitarlo l'abbiamo trovato quasi sempre vuoto dopo un primo periodo di diciamo di preoccupazione di verifica da parte anche degli agricoltori oggi apprezzano profondamente questo prodotto un prodotto stabilizzato che non dà assolutamente puzza io l'ho preso in mano ed è assomiglia molto all'humus del sottobosco quindi insomma un prodotto finale di qualità che si può essere anche venduto a un prezzo decisamente qui abbiamo la normativa addirittura abbiamo la normativa questo può essere classificato come compost di qualità quindi utilizzabile per agricoltura biologica ora l'altro pezzo di impianto che abbiamo studiato abbiamo approfondito la parte della digestione anaerobica qua vediamo i reattori che sono presenti in questo impianto sono delle strutture in cemento armato dove viene iniettato la miscela dell'umido quindi qua dentro entra l'umido si genera il digestato in questi ambienti agiscono in maniera naturale biologica dei batteri batteri anaerobi che nel loro processo di digestione appunto generano un biogas che ha un alto tenore di metano qui abbiamo la presenza al 50-60% di metano poi abbiamo una grid carbonica e altri gas che chiaramente devono essere trattati e gestiti però l'ambiente è assolutamente sigillato chiuso proprio perché non deve essere a contatto con l'aria quindi garantisce ampiamente dal punto di vista dell'impatto d'origine ecco questa altra immagine ci fa vedere l'interno del reattore quindi qui abbiamo una sorta di miscela di digestato c'è un passaggio un attraversamento di questa zona questa miscela viene questo digestato viene girato rimosso e permette nelle condizioni migliori i batteri di vivere e moltiplicarsi la temperatura a cui avviene tutto questo processo è piuttosto alta questa è un'ulteriore garanzia perché siamo intorno ai 60 65 gradi perché garantisce anche la salubrità in qualche maniera l'igienizzazione di questo materiale determinate temperature esatto la pastorizzazione avviene al 55 gradi quindi ecco abbiamo in questi anni con i colleghi verificato le tecnologie che ci sono soprattutto compostaggio e digestione anaerobica ci sono pro e contro di queste tecnologie per dire il compostaggio richiede energia richiede aree piuttosto ampie se non gestito al chiuso ha problemi di tipo d'origine viceversa la digestione anaerobica è diciamo un processo più complesso che però consente la valorizzazione del rifiuto in termini anche energetici e ha un impatto d'origine praticamente nullo nullo quindi ecco siamo arrivati alla conclusione che la soluzione integrata di digestione anaerobica e compostaggio rappresenta l'eccellenza quello che la migliore soluzione tecnologica alla gestione al riciclo e alla valorizzazione di umido e verde quindi abbiamo il migliore bilancio energetico abbiamo un allullamento perché siamo stati tre volte siamo andati su con amministratori funzionari della regione funzionari dell'ARPAM e quindi abbiamo potuto verificare a 10 metri dall'ingresso dell'impianto che gli odori sono nulli tutta l'aria viene aspirata trattata c'è un primo trattamento in controcorrente con acqua poi passa attraverso un biofiltro naturale che è dello spessore di 4 metri di corteccia e all'esterno non si sente assolutamente nulla ecco torniamo un po' lo sfondo a questa immagine che ci dà l'idea di una reale applicazione dell'economia circolare cioè partiamo dalla raccolta differenziata che è una parte del lavoro che viene svolto con attenzione dai cittadini alla valorizzazione sia in termini di recupero di materia che energetico della raccolta differenziata con la produzione di biometano e compostaggio il compost può essere riutilizzato e come dicevamo prima migliorando la qualità ambientale perché andiamo a sostituire i fertilizzanti chimici con un prodotto naturale rinnovabile che ha una componente organica stabilizzata che ha però fosforo azoto e consente di quindi di mettere in condizione anche gli agricoltori di avere un buon prodotto allora c'è da dire un'altra cosa l'impianto che siamo andati a vedere a Trento valorizza attualmente il biogas con la cogenerazione quindi abbiamo un motore che brucia il gas e produce energia elettrica la proposta tecnologica che deriva un po' anche dall'assetto normativo che è venuto fuori oggi addirittura prevede che questa parte venga sostituita con la purificazione del biogas quindi trasformiamo il biogas diciamo eliminiamo la CO2 e gli altri gas e ottimizziamo la produzione di biometano che viene poi reiniettato in rete quindi non abbiamo processi di combustione in loco abbiamo semplicemente il trattamento del biogas che può essere rimesso in rete oppure utilizzato per alimentare la flotta di un'azienda come la nostra che fa raccolta oppure la flotta del trasporto pubblico quindi ecco la chiusura del cerchio una reale chiusura del cerchio ecco questa ecco sottolineo la situazione attuale gli impianti ci sono sono pochi però e sono localizzati nel centro nord Italia abbiamo in tutto 55 impianti di cui soltanto una parte integrati che è la proposta che intendiamo portare avanti noi il resto sono di digestione anaerobica però ecco le regioni di Marche, Lazio e Abruzzo non hanno impianti che differenza c'è tra i pallini verdi e quelli quelli gialli sono digestioni anaerobici quindi il digestato poi va su altri impianti e viene ulteriormente trattato i verdi sono invece un connubio un'integrazione di digestione anaerobica e compostaggio nel medesimo impianto quello che vorremmo proporre noi le matrici trattabili di rifiuti trattabili in questi impianti chiaramente in giro per l'Italia ci sono impianti di digestione anaerobica che trattano anche altre tipologie di rifiuti per esempio liquami zeotoi tecnici scarti di macellazione fanghi di depurazione la nostra proposta riguarda un impianto che tratta esclusivamente forsu quindi frazione organica scarti di cucina e verde potature insomma quindi anche nell'utilizzo della materia prima una materia prima diciamo abbastanza allora chiaramente l'ottenimento di una certificazione del compost per agricoltura biologica è legato strettamente all'origine che cosa io ci butto dentro esatto perché altrimenti se parliamo di fanghi per dire la situazione è completamente diversa ecco quest'ulteriore immagine dà un po' l'idea del lavoro che è stato fatto dall'azienda in collaborazione anche con produttori e altri gestori di impianti noi siamo andati a vedere 6-7 impianti in giro per l'Italia e li abbiamo analizzati ci siamo confrontati chiaramente adesso dico anche la verità non è che ci siamo inventati nulla siamo andati a vedere le migliori pratiche le migliori applicazioni che ci sono in giro per l'Italia e quindi la conclusione è stata proprio la tecnologia applicata a Trento che oggi è applicata però abbiamo due impianti simili in Umbria ne è stato inaugurato uno recentemente dal gruppo ERA Bologna quindi ci sono applicazioni equivalenti di dimensioni diverse anche qua vicino questa tecnologia che è un brevetto svizzero questa tecnologia secondo noi riassume una serie di vantaggi importanti che sono quelli di avere innanzitutto uno scarsissimo utilizzo dell'acqua quindi è un processo semi dry semi secco quindi l'acqua di falda non serve non si produce acqua reflua che va depurata ottimizza la valorizzazione energetica del rifiuto perché insomma questo impianto qua che siamo andati a vedere produce circa 170 normal metri cubi di biogas da una tonnellata di rifiuto però estremamente sicuro impatto d'origine nullo e anche questo è un dato di fatto perché quell'impianto esiste da 6-7 anni è attentamente monitorato e controllato quindi c'è un sistema di monitoraggio al contorno nelle case vicine c'è una concessionaria lì vicino c'è una pista ciclabile e quindi l'ARP l'agenzia ambientale locale ha preteso nella fase autorizzativa tutto un sistema di controllo che ad oggi non ha dato alcun riscontro di problematiche per concludere direi anche che farei un riferimento anche a quella che è la normativa regionale questa regione ha adottato un piano regionale ormai 7-8 anni fa che prevede al posto dei processi tipo di incenerimento ha seguito la linea di impianti di recupero di materia e quindi già il piano regionale indica la necessità di fare impianti di questo tipo a servizio del territorio tra l'altro esiste un'autorità d'ambito l'ATA Pesaro Urbino che nel piano d'ambito preliminare ha prefigurato la realizzazione quindi diciamo che l'azienda si è mosse in un contesto normativo che indicava quale strada prioritaria quella della prossimità quella di realizzare un impianto a servizio del nostro territorio nell'impianto entra umido e sfalce potature sottolineo ancora non altri codici CER eccetera per concludere qual è l'output come l'abbiamo detto l'abbiamo ripetuto però da questo impianto che diciamo valorizza dei processi naturali in gran parte il lavoro in gran parte viene svolto dai batteri quindi un processo biologico naturale un po' quello che avviene ai nostri depuratori di acqua e reflu che abbiamo in città anche lì sono i batteri a fare gran parte del lavoro l'output quello che esce è biometano per autotrazione e compost di qualità quindi insomma sicuramente penso che se i cittadini di Trento non erano contenti qualcosa dicevano sono sette anni che è lì ribadisco oggi hanno avuto il premio d'Italia oggi come il comune con la miglior qualità della vita esatto quindi insomma quale esempio migliore da prendere a campione e come sempre noi cerchiamo in questi spazi di offrirvi tutti gli spunti di riflessione possibili immaginabili ringraziamo il direttore Romei per questa disamina così completa e soprattutto particolareggiata anche di aspetti che forse magari sono stati approcciati un po' superficialmente oppure insomma con un po' di chiacchiere da bar invece è bene capire anche tecnicamente di che cosa parliamo e soprattutto anche l'indicazione che è stata data dalla regione che viene perseguita dall'azienda e insomma il mondo si muove nella direzione del bio il bio è il must imprescindibile del nostro secolo e quindi dobbiamo tutti quanti regalare non solo a noi ma anche alle future generazioni un mondo migliore di quello che abbiamo trovato e il biologico e anche lo smaltimento dei rifiuti deve andare in questa direzione perché se possiamo ottimizzare quello che purtroppo è il nostro scarto domestico quello ce l'abbiamo non ce lo possiamo mangiare ci muoviamo nella direzione giusta speriamo di avervi dato ripeto spunti di riflessione importanti grazie anche al presidente per aver chiarito alcuni aspetti un po' nella pancia della discussione generale che sono entrati ma penso che continueranno a entrare ancora non ce la caviamo così possiamo dirlo io volevo solo concludere in questo modo cioè che è positivo il colloquio che si sta cioè quello che si sta dibattendo su questa città per il proprio futuro il problema vero è che il futuro il nostro futuro è il presente degli altri quindi parliamo di situazioni già ampiamente monitorate non ci siamo inventati niente e sono valide e tutt'altro quindi il vero problema di questa città secondo me è proprio quello che parliamo del nostro futuro non rendendoci conto che quel futuro lì è il presente di tante altre comunità che hanno affrontato in maniera completamente laica questo genere di situazioni nessun volo pindarico ma ci si muove sulle certezze su quello che ha funzionato e su quello che funziona e che sta funzionando insomma va bene grazie direttore grazie presidente e grazie anche a voi per averci seguito in questo spazio di approfondimento ai prossimi appuntamenti arrivederci arrivederci arrivederci